Signore e signori buongiorno, sono Luca Trucco e ho scollinato 60 anni e da più di 30 mi occupo di formazione cognitivo comportamentale per le aziende, per le istituzioni, per le associazioni e i privati. Dopo 13 edizioni dedicate alle abilità manageriali trasversali, ovvero sia le cosiddette soft skills, abbiamo deciso di rinnovare titolo e contenuti. Andando ad orientare il focus del percorso circa i temi che riguardano più da vicino la persona piuttosto che non la negoziazione. Comunicare è importante a livello interpersonale ancora di più e noi lo facciamo solitamente attraverso modalità che riguardano il verbale, il paraverbale e non verbale. Allo stesso modo abbiamo la possibilità di attivare delle tecniche che ci consentono di migliorare, sensibilizzare ed avere un rapporto più intimo con noi stessi attraverso il dialogo introspettivo. Per questo andremo anche naturalmente a mutuare tecniche e metodologie che derivano dalla psicologia moderna, dalla programmazione neurolinguistica, dalle scoperte neuroscientifiche e andremo anche ad attingere a quelle che sono tecnicalità derivanti ad esempio dal training autogeno, dalla meditazione, dall'analisi transazionale, dalla gestione del CIE e quant'altro. Tutto questo ci consentirà di migliorare il nostro sistema mente-corpo e di fatto quindi di partire lungo questo percorso con un approccio decisamente più olistico rispetto alle edizioni precedenti. Se tutto questo vi è di interesse io sono a vostra disposizione attraverso appunto la partecipazione a questo percorso. Grazie, spero a presto, buongiorno.